Eccoci qui come state, un saluto a tutti e ben ritrovati, una buona serata da Milanello, la casa di milanisti su YouTube Vi invito come sempre a commentare numerosissimi, a lasciare un bel like, iscrivervi da questa parte, attivate anche la campanella mi raccomando Iscrivetevi anche al mio canale personale, grazie per chi lo farà, qui sotto c'è il link, grazie, grazie, grazie Breaking News soprattutto di Milan ma non solo Allora, diverse novità e approfondimenti, anche sul tema arabo, ma non solo In attesa di capire come finirà questo calciomercato, con sempre ovviamente la spia accesa, l'attenzione alta Il nostro, sottolineo nostro, non voler lasciare nulla al caso E uno spirito critico corretto per capire insomma se verrà fatto questo mercato oppure no Se la risposta a un'incredibile emergenza di infortuni, un'incredibile emergenza in difesa Sarà all'altezza delle nostre ambizioni oppure se si sarà perso un'occasione anche per mandare un messaggio di ambizione Arrivati a questo punto non mi aspetto un nome clamoroso Ma almeno un segnale necessario non soltanto per comunicare qualcosa a chi ha il Milan nel cuore Ma anche e soprattutto per la necessità di campo Che ci ha visto perdere uno dopo l'altro tutti i titolari Tomori, Ciao, Kalulu Considerando che poi Kier è a mezzo servizio E ogni tanto vedi la gara ultima Quello udinese Insomma non riesce magari a esprimersi al massimo delle proprie possibilità Detto questo vorrei sottolineare però un aspetto molto importante Che riguarda poi, sì, sempre il mercato Perché vado a recuperare Ecco anche il post che ho fatto Perché in tutto questo Ci sono le parrocchie Ci sono i pro, contro Io ripeto sono sempre soltanto di un carro Quello del Milan Non sono quello che Siccome è andato via Maldini Fa comodo Denigrarlo perché adesso non è più qui No Io alcune cose le riconosco Maldini Altre no Ma non sono quello per partito preso O per convenienza O che va dove tira il vento Come credo la grande maggioranza di voi Ho sempre detto in estate Settembre, ottobre Anche quando le cose andavano male Novembre, dicembre, gennaio Ribadisco oggi Che per quanto mi riguarda Il mercato estivo È stato promosso In estate a freddo Scusate a caldo Avevo dato sette e mezzo Con però la macchia della mancanza dell'attaccante Andando avanti Anche quando le cose andavano male E qualcuno di voi diceva Ma come? Per fortuna che il mercato era buono Dicevo Ribadisco Secondo me il mercato è stato buono Lo ribadisco oggi E ho pubblicato l'altro giorno Su Instagram questo post Che ho trovato online La foto Non so chi è l'autore Mi scuso se non me lo cito Ma non so chi l'abbia fatto In cui vedete di fatto Sei nuovi acquisti E il fatturato realizzativo Tramite goal O tramite assist E mi sono permesso di scrivere Mercato sbagliato Tra parentesi cheat Un sacco di messaggi Sul mio profilo Instagram Con parere anche diverse Discussioni che si sono stimolate Ma ribadisco Questo concetto Che per me il mercato è stato Davvero azzeccato Tra l'altro Nel estate Ero scettico Per la mancanza Della punta Nel frattempo La puntona non è arrivata Però Iovic sta dando Anche delle risposte importanti E tra tanti i messaggi Che magari scriverete Anche qui sotto È Sì però sei fuori da tutto Vero Il Milan è fuori da tutto Ma se il Milan è fuori da tutto Secondo me non è colpa Del calciomercato Se il Milan è fuori Non da tutto Perché comunque c'è l'Europa League Che sia una retrocessione Della Champions League Però è un obiettivo Che sulla carta Può essere raggiunto E serve sempre per una svolta Tattica e mentale Che magari è arrivata Con quel click finale Nella gara crudinese Chissà Detto questo Sei fuori Dal discorso campionato Per quanto mi riguarda Ecco Anche se Ci sono quelli più Ottimisti Fiduciosi O con L'effetto di salame rosso nere Non lo so Che dicono Che lo scudetto Può essere ancora vinto Secondo me Recuperare nove punti È vero che Adesso non sei Con l'asterisco All'Inter Poi c'è In mezzo anche la Juventus È molto Molto complicato Perché il Milan Non ha dimostrato Di avere continuità In questa stagione Dovrebbe provare a vincere Quasi tutte Dovrebbe provare a vincere tutte Per fare questa impresa Che sarebbe pazzesca Storica Clamorosa Forse mai vista Così con due squadre davanti Detto questo Se non siamo In lotta per lo scudetto Almeno per quanto mi riguarda Siamo fuori Dalla Champions League Siamo fuori Dalla Coppa Italia Ci sono due Motivazioni principali Per quanto mi riguarda Che sono Guida tecnica Infortuni Cose poi tra l'altro Legate Nulla mi toglie Che questa rosa Con un allenatore Non a fine ciclo Ma a inizio ciclo E senza infortuni Sarebbe pienamente In corsa Per lo scudetto Sarebbe ancora In Champions League La gara col Borussia Che di fatto ci taglia le gambe Ricordiamo che la partita Svolta cambia Quando siamo costretti A mettere Kronici In difesa Perché? Per via degli infortuni E saremmo magari Anche Coppa Italia Cosa che dovevamo essere Comunque Però Ecco quindi Pulisic Guardate 7 gol E 6 assist Acquisto non azzeccato Di più Per me è il miglior acquisto Loftus Chek Ha avuto problemi Fisici Sì 3 gol E 2 assist Reinders 2 gol Tanti sbagliati E 3 assist Ciukwezze Che a oggi È Non lo vedo come Un acquisto azzeccato A oggi Secondo me però Arriverà anche lui Comunque Nel non acquisto azzeccato Sono 20 milioni Più 8 di bonus Da verificare Ha fatto 2 gol E un assist Anche se è un acquisto Non azzeccato De Chetelaro Scorsano Fece soltanto un assist Tra l'altro In Champions Questi 2 gol Iovic Su quale io puntavo 0 0 0 Diciamo ma che prendiamo a fare Iovic 6 gol E un assist In pochi minuti di gioco 6 gol E un assist Okafor Guardatelo qui Okafor 4 gol E un assist Giocando ancora meno di Iovic Ci fu giocando pochissimo Io dico che questo mercato Non ha completato la squadra Non è che si può pensare Di risolvere tutto In una sessione Però Se non fosse stato Per gli infortuni Soprattutto per gli infortuni Anche per certe tattiche O Comunque di guida tecnica Sarebbe una stagione Molto diversa Abbiamo portato Dal centrocampo Comunque 5 gol E 5 assist Tra Loftus E Reinders Tra gli esterni Abbiamo portato 9 gol E 7 assist Tra Pulisic E Ciuquez Anzi dovrei raggiungere anche I 4 gol Di Okafor E un assist Quindi per gli esterni Mandando via Messias Salemakers Diciamo anche De Ketelare Abbiamo portato 13 gol E 8 assist Dagli esterni Lo scorso anno Dicevamo Sugli esterni Soprattutto sulla destra Quest'anno sulla destra Abbiamo portato comunque vita Soprattutto con Pulisic Ma abbiamo anche Una coperta che è più lunga Tigiri Lo scorso anno In Champions L'Inter aveva messo Dei cambi importanti Noi no Quest'anno noi abbiamo Tigiri Pioli Tigiri Ajovic Ajokafor Ajokovic Giocatori comunque Oggi non titolari Ma che ti hanno portato Insieme 12 gol E 3 assist Dalla panchina Prevalentemente Dalla panchina E insomma Non è male Non è affatto male Anzi Quindi anche La punta Che dicevano La punta Comunque 6 gol E un assist Alternandosi A Giroud Giocando molto poco Il peccato È che la difesa È stata disintegrata Il nostro Oggi Il nostro vero Punto debole È la difesa Perché prendiamo Troppi gol Anche i due gol Dalla Udinese Non ci stanno mai Prendiamo troppi 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 gol Non potevamo sapere Che si sarebbe fatto male Non potevano sapere A squadra del mercato Che si sarebbe fatto male Ciao Si sarebbe fatto male Subito Calulu Anche due volte Una molto seria Purtroppo L'operazione Eppure lo stesso Tomori Non si poteva sapere È chiaro che magari Un difensore in più Doveva essere preso Poi ci sono stati anche L'errore di mercato Romero non lo classifico Come errore di mercato Preso a zero Molto giovane Pellegrino si Pagato non tantissimo Comunque con quei soldi Si poteva prendere Qualcosa di diverso E a oggi è un flop Ha giocato un po' così Ma chiediamoci anche il perché Quindi è un mercato Ribadisco Top Che ha portato 12 14 20 24 gol E 14 assist Dai E ribadisco Non è un vol Non mi appartiene Il discorso Se era Maldini Se era questo Comunque è stato un mercato Molto buono Io non ho empatia Non mi riconosco I furlani Mi riconosco molto di più Maldini Sottolineo la bravura Di Moncada Che vorrei tenere Per oggi Domani E per il futuro Però Signori Il mercato Per me È stato un mercato top Pur Non avendo completato tutto Ma non si poteva pensare Di Che era una squadra Molto forte Anzi Io dico che A rosa completa Questa squadra è molto forte E non necessita di molto Per essere Migliorata E diventare ancora più forte Poi Capitolo Arabo Mi Scatenerò Poi Prossimamente Vediamo magari Si già domani mattina Ma volevo Leggervi Un pezzo Del collega Giulio Mola Del giorno Su quotidiano Sportivo Quotidiano Punto net Il titolo è Minani Dubbi nel deserto Cardinale cerca investitori Per appianare il debito I fondi arabi Impressing A Redbird Servono capitali urgenti Per estinguere I conti in sospeso Con Elliot La società Al momento Sembra orientata A trovare una partnership Strategica Ma i Medio Oriente Spingono Per acquisire la maggioranza Delle quote Nel dettaglio Poi si parla di Villini e di Redbird Facendo sapere che il club Non è in vendita Che piaccia o non piaccia Che etichetta Come buffalo Fake news Notizie Indiscrezioni Su un tema Tanto delicato Quanto attualissimo Quindi Giulio Mola Con il quale Non mi sono confrontato Con il quale Non ho parlato Va in una direzione Precisa pure lui Diciamo che Siamo stati un po' Apripista Mi fa piacere che Giulio La Pensi Abbia notizie Che vanno Nella stessa direzione Anche lui Scrive Inverscorp Lo smentivano E poi Guardate Insomma Se è vero Che sportivamente Parlando Il Milan In questi giorni È stato assente In Arabia Saudita Per la Final Four In Supercoppa Lasciando interdetti Moltissimi appassionati Medi orientali Non si può neppure negare Che negli ultimi mesi E anche nelle settimane Più recenti Milan si sia fatto Vedere dalle parti Del deserto Perché Redbird È alla ricerca Di altri capitali Grazie a cui finanziare Il progetto Milan e non solo Milioni che servono A Cardinale Non sono pochi Si lavora Per appenare Il debito Di oltre 600 milioni 670 milioni Calcolati di interesse Con scadenza Del 2025 E perciò Non possono essere Ridimensionati La stregua Di semplici sponsor Eh Come qualcuno Ci vuol far credere Cardinale A sentire gli spiffer I societari Gradirebbe Solo azionisti Di minoranza Ma la verità È che gli arabi A cui l'uomo Di affari americano Si è rivolto Vogliono avere Un ruolo Di attori protagonisti E non di semplici figuranti Quindi se entrano In un club Con sovvenzioni ingenti Pretendono Di comandare Perciò La trattativa Non è per nulla semplice Alla luce anche Del fatto Che su binari paralleli Il numero uno Dei rossoneri Lavora allacremente Anche sulla vicenda stadio Un motivo in più Per ingolosire gli investitori E aumentare i valori Del club Quotato Ad oggi 1,2 miliardi di euro Che però sarebbero Quasi raddoppiati Con lo stadio di proprietà Edificato Da una parte L'idea di Cardinale Sarebbe quella Di trovare Una partnership strategica Tenendosi il Milan Dall'altra PIF Fondo governo saudita Invescorp Fondo del Bahrain Spingono per acquisire La maggioranza delle quote Promettendo anche Investimenti importanti Promettendo investimenti Importanti Cosa che con tutte le proprietà Arabe Nel panorama Il panorama calcistico continentale Hanno fatto Fra una smentita E un nuovo indizio Fra un viaggio in Medio Oriente E un summit milanese Cardinale Continua a sfogliare La Margherita Con la consapevolezza Di dover prendere La decisione Il più presto Quindi anche lui parla Di investimenti importanti Anche se qualcuno Nel frattempo Ha fatto circolare Ma chiedetevi Se magari questi investono Oppure no Detto questo Eravamo soli Meglio soli Che mal accompagnati Oggi Non siamo più soli Siamo ben accompagnati Sono i 24 ore Bellinazzo Carlo Festa Curro Repubblica Il giorno Giulio Mola Giornalisti Che stimo rispetto E che hanno una caratteristica Hanno lo spirito critico E non scrivono sotto dettatura Come magari Da altre parti È capitato O può capitare O capiterà Ditemi che ne pensate Commentate numerosi Anche sul discorso mercato Ragazzi Per me l'acquisto migliore Pulisic Ma Siccome non va Fatto chissà cosa In estate Cioè Poche operazioni mirate E importanti Per me la squadra è forte Facciamo un bilancio Oggi Avete visto Tanti gol E tanti assist Eh Che era poi anche Un nostro limite Lo scorso anno No? L'attacco Se no abbiamo Uno dei migliori attacchi È dietro che facciamo pena Perché? Perché sono fatti male tutti Iscrivetevi Un abbraccio Ciao Anche al mio canale personale